Oggi viene presentato il progetto Volontari per l'educazione, un progetto nazionale. Nasce per concretizzare e aiutare i ragazzi per la dispersione scolastica e soprattutto per abbattere la dispersione dei ragazzi per l'inclusione. Ovviamente arriva a tutti quanti, a tutte le famiglie, in quanto verrà dotato di un tablet con una scheda con dei giga per poter usufruirne nei contesti casalinghi. Questo servirà per una doppia causa, nel senso sia l'assistenza scolastica ai bambini, ma sia anche ai genitori e alle famiglie, agli adulti, che nello stesso tempo possono comunque acquisire delle conoscenze linguistiche o scientifiche. I target sono i ragazzi che vanno dai 9 ai 15 anni, che sono soggetti ovviamente alla povertà educativa. Soprattutto nasce visto questi due anni di problematiche con il Covid e cerchiamo di supportarli e avvicinarli soprattutto a quelli che dovranno affrontare dei percorsi di esame, tipo alla terza media o ai quinti superiore. Soprattutto perché i bambini vittime di violenza che sono ospiti nelle case rifugio ovviamente non possono frequentare persone dell'esterno e quindi di conseguenza questo progetto viene curato e viene sfruttato in Calabria proprio per questo motivo, per questo fine. È molto importante raggiungere proprio gli ultimi e di conseguenza per quei bambini questa sarà una vera compagnia e quindi un riserimento alla società.